Ciao ragazzi, sono Viola, bentornati nel nostro centro FP Studio Lab. Oggi vedremo insieme come rafforzare le nostre braccia. Oggi utilizzeremo la TeraBand per rafforzare le nostre braccia e in particolare i muscoli delle nostre spalle e dei nostri tricipiti. Armati di un elastico bello lungo. Mettilo a terra e poggia i piedi al centro. Prendi le estremità dell'elastico e comincia, sentendo bene la spinta dei piedi nel pavimento, ad estendere le braccia verso il soffitto, con i palmi rivolti tra di loro. Ricordati di mantenere le scapole ben ancorate al torace, per evitare che le spalle vadano su verso le orecchie. Dopo aver ripetuto l'esercizio per 5 o 6 volte, puoi aggiungere qualche torsione. Una volta stese le braccia, ruota le costole di destra e lo sterno verso sinistra, cercando di non muovere il bacino e spingendo il piede destro nel pavimento. Torna e ripeti l'esercizio dall'altro lato. Ricordati di non portare le spalle su verso le orecchie, ma cerca di mantenere le scapole ben ancorate alla gabbia toracica. Stendi l'elastico a terra e fermalo con il piede destro, impugnando le due estremità. Trasferisci il peso sulla gamba destra e affonda indietro la gamba sinistra. Inclina il busto in avanti, avvicina le tue scapole e mantieni ben aperte le clavicole. Piega e stendi le braccia verso dietro, mantenendo le scapole in adduzione. Cerca di mantenere le scapole ben addotte, quindi una vicina all'altra e mantenere le clavicole ben aperte. Prova a pensare che stai continuando ad allungarti dai tuoi talloni al centro della tua testa. Tira sempre l'addome in dentro, ricordati di non gonfiare mai la pancia in fuori. Grazie per averci seguito, se questo esercizio ti è piaciuto lascia un like al video. Continua a seguirci e non perderti la prossima puntata! Ciao ragazzi, sono Viola. Aspetta! Ciao ragazzi, sono Viola. Bentornati! Aspetta! 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 Ta-da! Oh wow! Well done! Grazie.